La vita di un cittadino diversamente abile in città non è di certo facile. Ogni giorno bisogna fare i conti con le barriere architettoniche, le strade dissestate e spesso anche con l'inciviltà e l'insensibilità degli altri cittadini, i cosiddetti normodotati, che con le loro auto invadono i già pochi scivoli presenti in città. Problemi ordinari con cui molti cittadini in carrozzina hanno imparato a convivere. Ma cosa succede se di colpo, alla già lunga lista di impedimenti, se ne aggiungono di altri che potrebbero essere facilmente evitati con un po' di buonsenso. È il caso di Nicola, una vita in carrozzina che ogni giorno combatte le sue ordinarie battaglie quotidiane senza mai lamentarsi. Da qualche mese a questa parte, di fronte alla sua abitazione all'interno di un cortile di via Cairoli, la sua immondizia regolarmente differenziata rimane davanti l'uscio di casa. Secondo quanto ci racconta lo stesso Nicola, gli operatori del servizio ritirerebbero solo i rifiuti sulla via principale, trascurando i vicoli. Da maggio che non raccolgono l'immondizia, vengono una volta alla settimana e tante volte ti prendono i sacchi vuoti che non l'immondizia quando c'è vera e propria. Io pretenderei che si facesse che ogni giorno verrebbero e quando c'è l'immondizia te la prendono e quando non c'è l'immondizia non te la prendono. Invece in questo periodo, da maggio in poi, sta succedendo che non ti prendono l'immondizia. Ho dovuto fare un castello come vedi fuori per dire che devono essere assidui nel venire a prendersi l'immondizia perché io la pago tramite tasse, la pagano i miei genitori, ma la paghiamo e in più loro sono pagati per ogni giorno. Sempre secondo Nicola capita spesso poi che una volta a settimana i netturbini raccolgano l'immondizia accumulata nei giorni, tutta insieme, vanificando di fatto la differenziata. A maggio tu mi raccoglievi l'immondizia fino alla mia porta, perché ora non me la devi raccogliere? Che poi io pago le tasse per la mia porta, non pago le tasse per le altre porte. E Nicola decide di lanciare un appello all'amministrazione. Al signor sindaco lo ringrazio perché mi è interessato più volte, perché io ho segnalato questo caso al signor sindaco, però dico che dobbiamo trovare una soluzione per avere dei netturbini più efficienti.